Siamo stati cinque anni all'opposizione di Crocette e del suo governo, un'opposizione intransigente ma mai strumentale. Abbiamo difeso i siciliani, abbiamo difeso la democrazia, abbiamo difeso i lavoratori e i disabili, persone più fragili delle quali raccogliamo la sfida propositiva, abbiamo difeso il mondo dello sport, abbiamo sostenuto il mondo produttivo e abbiamo difeso la sanità e i malati, troppo spesso sacrificati in nome della spending review. Mi sono adoperato perché venisse finanziato l'Istituto del Garante dell'Infanzia e una mia norma ha reintrodotto nel sistema normativo regionale il garante per i detenuti. Abbiamo riportato la cardiochirurgia pediatrica a Palermo e introdurremo nel sistema normativo regionale lo screening neonatale che salverà la vita di tanti bimbi e lo faremo inserire nei LEA i livelli essenziali di assistenza. Abbiamo operato con convinzione a difesa della Sicilia e dei siciliani. Dal 6 novembre, col vostro sostegno e con coerenza, competenza e concretezza, saremo al governo della Regione per costruire un futuro nuovo e di certezze per i nostri giovani. Il 5 novembre, per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana, sbarra il simbolo della lista Popolari Autonomisti e scrivi Cordaro, Toto Cordaro.